Quanto è stato difficile per te personalmente? Diciamo che sicuro è difficile perché se c'è una guerra in tuo paese tu pensi per altre cose tante volte. Adesso tanto tempo ho speso con il mio telefono per guardare le notizie, per provare a aiutare, per parlare con i miei genitori. Quindi è un po' difficile, ma non è così difficile come per ucraini chi sta in Ucraina, chi è stato in Chieva, adesso in Kharkov, chi quasi non ce l'avevano qualcosa per mangiare. Stanno in bunker per 3-4 giorni, stanno lì senza un bagno normale, con bambini. Quindi io sto bene perché sono in Italia e qui è tutto tranquillo. Quanto può aiutare a sentire il sostegno dello sport, dei tifosi, dell'organizzazione, della Lega? Sì, veramente, lo hai detto, ancora posso ringraziare la Lega perché hai fatto veramente bello e bene. Per noi è importante per ucraini perché diciamo che questo è un po' un aiuto in formazione, sì, per pubblico. E quindi la sport con noi è molto importante. Grazie.